Ti vediamo un po' chi si collega in questa direttissima, ci sono già varie persone che stanno arrivando, io prendo qualche secondo di tempo, oggi l'argomento è potente, si parla di siti web e landing page ad alta conversione, cioè pagine che portano gli utenti che le visitano a fare azione, quindi se vuoi creare un sito web, se vuoi capire cosa è una landing page, come strutturarla, cosa funziona e cosa no, rimani sintonizzato perché questa è tanta roba. Io sono Matteo Pitaluga, ideatore e fondatore di Marketing Genius, tante persone si stanno collegando, vado a riscerare sulla mia pagina anche questa diretta perché forse non l'ho condivisa e vediamo un po' chi arriva insieme a me stasera, siete già in tanti, dai fatemi un saluto nei commenti, non siate timidi, chi è nuovo, chi è la prima volta che si collega le masterclass? Intanto ricordo una cosa, come funziona la masterclass, siamo tutti qui insieme in diretta su Facebook e in streaming poi anche su YouTube, nella masterclass io propongo i miei contenuti, condivido strategie, idee, tecniche e poi le commentiamo anche insieme, quindi rispetto ad una lezione in aula magari dove c'è il docente che spiega, tutta la gente che si rompe le balle, qua possiamo essere tutti insieme, ognuno può commentare, ci si può dare una mano anche nei commenti e quindi sfruttare un po' la potenza del web. Tutti noi? Grandissimo, ciao Franco, grande. Mi sa che c'è stato qualche problema per alcuni nel collegarsi, perché ad esempio il mio profilo Facebook mi segnava diretta non disponibile, vabbè pazienza, io parto, mi sembra che voi ci siate, ok stanno arrivando tutti. Ottimo, ciao Stefania, ciao Luca, allora chi di voi è una landing page o usa le landing page? Fatemelo sapere nei commenti, intanto io do il benvenuto ai nuovi, se sei nuovo, della prima volta che mi segui magari fammelo sapere nei commenti o se da poco che mi conosci fammelo sapere nei commenti chi è nuovo nelle masterclass e vi spiego appunto un po' come funziona. Io andrò con i miei contenuti, poi leggerò tutti i commenti e andiamo un po' a commentare insieme a discutere su questo tema. Oggi parliamo di pagine web ad alta conversione e landing page. Cosa funziona oggi? Se sei nuovo ti spiego anche la mia filosofia riguardo al marketing online. Io non propongo contenuti di svago, non propongo contenuti di intrattenimento, sì magari facciamo due battute, ce la ridiamo, però cerco di essere divertente ma i miei contenuti sono pratici, ok? Roba pratica, roba che tu puoi usare per fare il grano, per portare soldi al tuo business. Questo è il mio obiettivo oggi. Ti conosco da poco, sei un grande. Ciao Massimo, grande, anche tu, grandissimo. Ok, vedo che tanti di voi hanno delle landing page, magari ce le andiamo ad esaminare, cosa dite? Ci pigliamo due o tre cavie e testiamo un po' di landing page. Intanto apro l'argomento e poi vi presento il mio ultimo lavoro, la mia ultima landing page che ho creato. Allora, una landing page è una pagina dove una persona si collega e ha essenzialmente l'obiettivo non di vendere qualcosa, ma di scaldare il contatto. Ora, tu magari ti starai chiedendo, ma la landing page la devo per forza usare per il mio business? La risposta è no. Io solitamente consiglio la regola dei tre secondi. Chi la conosce? La regola dei tre secondi? Cioè, la regola dei tre secondi dice che se tu... Grazie per i commenti, grazie. Se tu hai un business che si può spiegare, o meglio, che può essere capito da una persona in tre secondi o meno, non hai bisogno di ricatturare l'email, non hai bisogno di una landing page. Facciamo un esempio. Se io vendo la maglietta o vendo l'occhiale, a meno che non sia una maglietta speciale o un occhiale speciale, non ho bisogno dell'email della persona. Cioè, voglio dire, se ti vendo la camicia, non è che ti dico dammi l'email e ti mando l'ebook sulla camicia, ti mando i contenuti segreti, minchia, ti do i contenuti della vita sulla camicia. No, ho visto la camicia, la idea è mi piace, non mi piace. Cioè, mi attira l'attenzione o non mi attira? Occhiale è stessa cosa, a meno che non sia un occhiale con delle capacità speciali. Quindi l'idea di massima è, per partire nel tuo business, non hai bisogno di una landing page se il tuo business può essere capito da una persona in tre secondi o meno. Non spiegato, in realtà, capito. Perché la gente, ragazzi, online non ce la può fare. Non ce la può veramente fare. Cioè, dovete essere voi a rendere le cose semplici, però anche quando le rendete semplici, a volte una persona ci deve pensare. Quindi l'idea è, se il tuo business deve essere pensato dalla persona, quindi, non so, assicurazioni, trading, network marketing, formazione, tutto quello che deve essere elaborato, cioè che richiede un minimo di capacità cerebrale, dovete usare una landing page per promuovere. Tutto quello che invece è immediato, semplice, che la gente già sa che esiste, non ne ha bisogno di una landing page. Tuttavia, e c'è un big, tuttavia, siete tantissimi collegati, eh? Grandi, condividete la diretta, che secondo me è potentissima oggi, perché è un argomento veramente potente, dove ci sono poche informazioni, soprattutto in tanti ti mostrano, no? Ti parlano di landing page, ma nessuno ti mostra come farle. Quindi ti spiego, adesso ti porterò a vedere qualcuno dei miei lavori. Grande, Angela, adesso vi saluto tutti. Dicevo, di base per partire, chi è un business semplice non ne ha bisogno. Poi, puoi sempre fare un ibrido, cioè, tu puoi avere un sito web dove promuovi il tuo business, e poi, tra i vari pulsanti, ci metti una landing page. Vogliamo fare un esempio? Se andiamo, per esempio, proprio sul mio stesso sito, matteopitaluga.com, ve lo faccio vedere. In realtà, io il mio sito sto mostrando quello che faccio, non vendo nulla qua sopra. Però, tra le varie cose, c'è l'ebook, vedi? Qua, puoi scaricare l'ebook, quindi questa qui è una landing page praticamente incorporata. Allora, io non ho creato una pagina a parte per vendere, cioè, per vendere, per regalare questo ebook. È dentro al mio sito. Quindi, dentro al mio sito, uno può andare qui, mi lascia l'email e si scarica l'ebook. Dal momento in cui mi lasci l'email, non so se l'hai notato, sei rovinato, ok? Perché io ti mando ogni tipo di offerta possibile e immaginabile. Ma è quello l'obiettivo, ok? Ti voglio insegnare a fare questo. Non a spammare, occhio. A dare valore e fare in modo che queste persone ricevano almeno del valore da te, e poi chiaramente usare l'email per entrare in contatto. Quindi tu puoi anche fare un ibrido. Cioè, se tu hai un ristorante di base, non hai bisogno della landing page. Tuttavia, se vuoi andare proprio al next level e fare quello che nessuno fa, nel tuo sito gli puoi mettere, per esempio, un ebook di ricette o un codice sconto. Ehi, ricevi il 10% di sconto se mi dai l'email, bam! Capito? E fai su i lead. Non hai creato una pagina a parte. Hai usato nel tuo sito semplicemente uno spazio dove li catturi l'email. Quello è comunque fare una landing page. È integrata nel tuo sito, come ho fatto io col mio. e fai su i contatti, ma essenzialmente non vai a creare una pagina a parte. La metti nel tuo sito e crei un ottimo ibrido, dove il tuo business è spiegato in modo semplice. Però in più, perché non pigliargli anche dei contatti? Anche se uno su dieci che visita il tuo sito, uno su cento ti dà l'email, intanto tu fai su contatti. Quindi questo è un ottimo consiglio che do a chi ha un business tradizionale. Non hai bisogno di avere una landing page, però puoi fare un ibrido in questo modo, quindi altamente consigliato. Fatelo, fatelo, fatelo assolutamente. Mi conosci da pochi giorni, Silvia? Grande, benvenuta. Sei una master cash! Grande. Master class condivisa, grande Rino. Allora, condividete per favore perché ad alcuni non è arrivata la notifica, da quello che vedo. Quindi, siamo in 230, ragazzi. Grazie, grazie di cuore. Super Maurizio. Ok, poi ci sono delle domande fatte. Adesso vi voglio portare a vedere un po' una landing page, perché in tanti le fanno. E io un tempo, ragazzi, cos'era? Cinque anni fa, quando ho iniziato a usare la landing page, la mia landing page era uno sfondo di una pista di un aeroplano, cioè una pista d'atterraggio, di decollo, con un aeroplano. E la scritta, metti la tua email. C'è una roba oscena, non c'era nemmeno la mia faccia. E convertiva a bestia. Quella landing page convertiva al 60%. Vuol dire che sei persone su dieci che arrivavano lì mi davano l'email, cioè numeri paurosi. La media tipo generale dell'industria è tipo 5%, però io mi auguro che se tu crei una landing page il tuo tasso di conversione sia un po' migliore. Ok? Però la media generale a livello mondiale è 5%, ma è bassa perché c'è gente che non le sa fare. Quindi è anche un po' per questo. Un tempo ti dicevo bastava veramente fare una roba semplicissima. Adesso è cambiato. Adesso la landing page, visto che, non so, voglio fare un sondaggio a proposito. Chi di voi ha almeno messo un'email da qualche parte? Cioè vi è mai capitato di mettere l'email da qualche parte? Per iscriverti a un sito o per, non so, ricevere un contenuto gratuito, un coupon, un codice sconto? Cioè avete messo l'email da qualche parte almeno una volta? Io penso che chiunque dirà di sì, giusto? Anzi c'è qualcuno che non l'ha mai fatto, facciamo così. C'è qualcuno che non ha mai messo l'email da nessuna parte? Se ci sei scagli la prima pietra, no? Dai, scaglia la prima pietra se sei tu quello che non ha mai messo l'email da nessuna parte. Io non credo. Molto molto difficile che oggi ci sia qualcuno che non ha mai messo l'email da nessuna parte. Tantissime volte, dice Rosa. Immagino, anch'io. Anch'io, migliaia di volte. Al giorno d'oggi, chiunque ha messo l'email almeno una volta. E quindi cosa succede? Che si è alzato il livello di competitività, di concorrenza, no? Cioè non ti basta più avere una landing page qualsiasi. Hai bisogno di una landing page secondo me più lunga, tra poco lo andremo a vedere, più lunga ma soprattutto più credibile, che dà più informazioni. Cioè se un tempo bastava la landing page con il quadratino che ti diceva ciao dammi l'email, adesso bisogna raccontare un po' più storia a queste persone, ok? Anche perché ci sono stati, dopo dieci anni, cambi email. Non ricordo quante, ma mille volte. Esatto. Da quello che vedo tutti voi avete messo almeno una volta o migliaia di volte la vostra email. Quindi se vi va, vi è utile ragazzi? Io ho visto che la Masterclass è vostra, ok? Ditemi se vi è utile che scriva alla lavagna i concetti chiave, perché secondo me è utile. Poi ditemi voi se può aiutare, no? Così potete fare anche lo screenshot e vi aiutano a tenere queste cose a mente. Quindi se mi date l'ok io lo vado a scrivere tutto e vado a scrivere un po' le cose principali, no? Quali sono i, diciamo, i punti chiave di una landing page ad alta conversione, no? Io direi che una landing page deve essere, per prima cosa, lunga. Tu direi, ma Matteo, cioè sei pazzo, ti sto parlando del futuro, ok? Cioè di quello che va adesso in realtà e anche in futuro. Landing page deve essere lunga. Conversione più alta. Infatti potrei dire che una landing lunga può convertire fino all'80% delle persone, no? 80% di conversione. Può arrivare veramente all'80% di conversione. Una landing page lunga. Poi abbiamo, per esempio, tra le altre caratteristiche, ti direi la... Secondo me è molto importante... Aspetta, devo trovare la parola... Perché ragazzi io parlo inglese durante la giornata, a volte spagnolo, italiano, non mi vengono più le parole. Deve essere chiara, secondo me, e questo significa font semplici e colori semplici. Ragazzi, questo qui è un errore che fanno in tanti. Io vedo quelle landing page giallo acceso, rosso acceso, blu misto a viola, cioè tutti questi colori psichedelici, no? O quei font orribili. Ci sono quei font orribili, andiamo a vederne alcuni. Li metto su PowerPoint così li capisci, però... Vedo delle persone che, per esempio, non so... Facciamo la cosa c'è di ora, no? Eccoci qua. Sono in PowerPoint. Questo qui è un font semplice, che è Calibri, tra l'altro è consigliato. L'ho detto anche nella mia ultima masterclass, però io a volte vedo questa roba qua. Come questa. Cioè, secondo voi può convertire una roba che nemmeno si legge? Tutti questi ghirigori, no? Queste landing page che io vedo, ma anche i siti, perché poi è la stessa roba, la landing page è un sito, con anche questa roba qua. Si legge male e disturba, ok? Lo scopo della landing page è essere ordinata e pulita. Cioè, tutta sta roba qui, ragazzi, usate font semplici. Non usate tutto sto casino, queste cose qua che sembra greco antico, sembra gotico, va bene? Vi dico io alcuni font, ve li scrivo. C'è Railway, anzi però ve li scrivo con un font decente, ok? Torniamo al Calibri Lite. Ecco, Calibri è buonissimo. Abbiamo Railway. Sono i font con cui scrivere la roba. Abbiamo, il mio preferito è Lato. Guardate Lato che bello che è. Secondo me è il più bello, eh. Io uso Lato in quasi tutte le mie landing. Ma ovunque, anche nei siti. Guardate Lato. Guardate un po' la semplicità e l'eleganza di questo font. Semplice ed elegante. Guardate Railway, anche. Sono i miei preferiti in assoluto, Railway e Lato. Railway. Perché non c'è? Ah, sai che forse su PowerPoint non c'è Railway? Almeno. Qua non lo trovo. Vabbè, sappiate che c'è. A seconda del software che usate, Railway esiste, ok? Poi c'è anche il semplice Arial. O Arial, come si chiama? Arial, penso. Arial. Esatto. Molto semplice. Poi c'è tra questi... Ah, a me piace anche Anton. Vediamo se c'è Anton. Che ve lo faccio vedere com'è Anton. No, qua non c'è. Non c'è Anton. Però vi segno anche questo, Anton. Che è stretto, ma è molto bello, Anton. Segnatevi questi font e fate lo screenshot, se volete, alla pagina. Così ce li avete. Eccoli qua. Ve li metto tutti insieme. Calibri Railway. Ah, e poi c'è Open Sans. Tutti gli Open Sans sono molto belli. Ce ne sono vari. Ok? Eccoli qua. Questi qui sono i top font, che secondo me sono i migliori per fare le landing page. Ok? Quindi segnatevi. Quanto è utile la masterclass, ragazzi? Cioè, io vi sto dicendo i font che convertono. E colori semplici. Ho scritto colori. Semplici. Andiamo a togliere l'80% di conversione. Tanto mi sa che l'avete capito. O vedo di restringerlo qua. Non so ancora usare la salavagna digitale. A volte mi incasina veramente come i pazzi. Mettiamo questo qua. L'80% di conversione non riesco a toglierlo. O sì, eccolo qua. Grande. Ecco. E dicevo, per quanto riguarda i colori, beh, i font ve li ho scritti, ma i colori per me, ragazzi, bianco e nero. Bianco e nero. Non esiste una landing migliore di una landing semplicemente sfondo bianco scritte nere. E poi magari ci metti qualche colorino. Adesso ve ne faccio vedere una che ho fatto di recente per farvi capire la semplicità. Ok? Vediamo un po' di commenti. Open Sans è molto bello. Sono contento. Poi usano anche 6 font, se sul nostro PC non abbiamo e quindi... Esatto, ci sono PC che a volte uno non usa. Cioè, scusami, ci sono dei font che a volte uno non ha sul proprio PC. Però a seconda del software che usi, allora, Lato ce l'hanno tutti. Anton quasi tutti. Open Sans ce l'hanno tutti. Quindi avete comunque questi. E il classico Arial ce l'hanno veramente tutti. È fantastica la Masterclass, grazie. Sì, devo installarli alcuni font. Su PowerPoint. Ma se l'utente deve capire il concetto in circa 3-5 secondi, perché fare delle landing lunghe? Bellissima domanda di Giussi. Allora, il concetto è, l'utente deve capirlo in 3 secondi per i business che non hanno bisogno di landing page. Tu, se un business è complesso, non puoi possibilmente farglielo capire in 3 secondi. Quindi, il discorso che dicevo è, se il tuo business può essere compreso in 3 secondi, non la fai la landing, li mandi su un sito, come abbiamo spiegato nell'ultima Masterclass, la trovi su YouTube in replay, se vuoi vederla, dove il sito deve essere chiaro e andare dritto al punto. Se invece un utente ha bisogno di capire un po' di più, devi per forza avere una landing, secondo me. La landing ha lo scopo di dare informazioni, ma soprattutto di prendere i contatti di questa persona, proprio perché anche se la landing la fai lunga, adesso ne parliamo, probabilmente non capirà lo stesso questa persona, avrà comunque bisogno di farti delle domande, di entrare in contatto con te. Quindi questo è il concetto. Io ho testato varie cose e per mia esperienza le landing lunghe sono quelle che convertono di più, sono quelle dove le persone, perché essenzialmente la persona che vuole subito accedere ti mette l'email e nemmeno legge. E poi ci sono però tutta quella fetta enorme di persone che non si fidano, che hanno messo già l'email ovunque e si sono ritrovate mille cose di spam, l'hanno martellate, gli hanno rotto le palle. C'è quella persona che quindi è un po' più lì sul chi va là, che ha paura di mettere la propria email, se è una roba lunga, convincente, che dà informazioni e sa già quello che succede dopo, allora lì sì che ti dà l'email, capito? Quindi quella lunga converte di più in questo momento, almeno da quello che sto notando io nel settore, ok? Nel corso affiliate si obbligano landing cortissime per i contatti. No, 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 aspetta, dipende dal tipo di prodotto che andiamo a vendere, ok? Chiaramente, ripeto, di nuovo, facciamo un passo indietro. Se è un prodotto ultra semplice, lì gli fai la roba corta, gli fai la roba veloce. Se è un prodotto complesso, le landing page, ragazzi, vanno fatte per i prodotti complessi, va bene? Per i prodotti complessi si fanno le landing page lunghe. Se vuoi farle per un prodotto semplice, la fai corta, ok? Perché è un prodotto immediato, ti vado a regalare qualcosa, boom, tieni, ok? Quindi questo è un po' l'idea. Ora, un'altra cosa importante, secondo me, è appunto, dicevo il discorso dei colori. Smettiamo di fare queste robe ultra accese. Poi, ripeto, dipende dal prodotto. Se è un prodotto che richiede un certo tipo di colore, perché magari, non so, vuoi promuovere la festa dei colori, no? La paint party o il paintball dove si sparano i colori, allora lì sì che gli fai la landing con i colori ovunque. O una festa in discoteca o un carnevale, lì sì che fai i colori. Ovviamente ci vuole un minimo di intelligenza in questo. Però solitamente, io parlo in generale, la roba che converte è quella più semplice possibile. Quindi sfondo bianco, scritte nere, ragazzi. Sfondo bianco, scritte nere e poche immagini. Questo lo vado a scrivere perché per me è decisivo, ok? Fondo bianco, scritte nere e immagini e via. E secondo me un'altra roba importante, molto importante, è trasparenza. Mi vedete lo schermo? Sì. Trasparenza, cioè chi siamo, cosa otterrai subito dopo. Ah, e poi dire ancora un'altra cosa. Cosa otterrai subito dopo è anche footer, ok? Footer alla fine del sito. Logo. Adesso ve le faccio vedere queste cose. Logo. Contatti magari, ok? Contatti. Ci possono stare. Ok? Almeno far sapere chi sei. Se hai una partita IVA, eccetera, io la scriverei nel footer. O se sei un'azienda. La trasparenza è molto importante perché la gente adesso non vuole più dare l'email senza sapere chi cavolo sei. E non si fida semplicemente, ok? Adesso andiamo a vedere un po' di commenti. Sono da nero, scritte bianche, lifestyle. Adesso mi vado a vedere qualche commento. Alessia dice ho una mail, cioè una landing che mi dà i contatti ogni giorno ed è lunga. Poi bisogna anche testare, eh. Io ragazzi, ovviamente dipende dal vostro business, dipende da cosa fate, eccetera. Poi se avete le domande me le fate nei commenti. Io vi sto dicendo quello che in base ai miei test generalmente converte di più. Poi ci può essere il caso dove uno ha la landing page cortissima e converte. Però c'è un discorso da fare a monte. Ed è un'altra cosa da considerare. Con che traffico sto portando queste persone? Cioè, se io in questo momento sto facendo la masterclass e vi dico, dopo un'ora che vi spiego le cose, che ci sentiamo, parliamo, eccetera, vi dico ragazzi, ho creato un ebook gratuito. Andate sul mio sito e scaricatelo. Lì io posso metterci anche una roba cortissima, bianca, orribile, con solamente l'email, lo spazio per mettere l'email e voi ci andate. Ma perché? Perché ho già fatto tutto il lavoro lungo prima. Capisci bene? Io sto uscendo con una nuova promo, che la vedrete prossimamente sul web, che è un annuncio molto lungo. Ti parlo di un annuncio di 5 minuti. Un annuncio di 5 minuti ti dà già tanti contenuti. A quel punto ti porto su una landing page che può benissimo essere corta. Perché? Perché ho già fatto il lavoro prima, no? Cioè, ci ho ragionato su quello. Però comunque io consiglio di farla lunga. Anche se prima hai fatto un annuncio lungo, consiglio comunque di farla lunga. Cioè, non metterei solamente uno spazzettino con l'email. Se c'è un po' più roba, per me converte meglio. Questo qui è la mia impressione in base a quello che vedo ultimamente sul web, in base ai miei numeri, in base ai numeri delle persone con cui lavoro ogni giorno. Quindi la landing page non deve corrispondere alla home del sito, no. La landing page è una pagina a parte, ok? Sto parlando di chi deve fare una pagina a parte. Ovviamente non è dentro il sito. Quale tool per fare landing page consigli? Click funnel? Mi piace. Lead pages è molto valido. Insta page è valido. Ragazzi, vi dirò la mia. Non è il tool che fa la differenza. Cioè, capisci il concetto? Per questo mi batto. Non sono i tool che ti fanno fare i soldi. Io ho fatto il cash, ragazzi, con software da 10 euro al mese. O da zero. Anche roba gratuita, volendo. Non è il software per fare le email, cioè per fare il funnel che ti fa fare i soldi. Se tu non hai capito queste regole. Perché io posso entrare in click funnel, che è un software ultra completo, mi dà veramente tutto. Se io non ho capito queste dinamiche, cosa me ne faccio del software? Ecco, voi ragazzi puntate ad avere la macchina senza avere la patente. Ma che software uso? Ma tu sai come è fatto nella landing page per farti fare il cash? Hai idea di cosa è un funnel, di come strutturarlo? A quel punto ti pigli il software potente. Noi abbiamo fatto il lancio del corso Affiliate in White usando un software completissimo. Con le integrazioni abbiamo usato una roba complessa. Però, dopo 5 anni che siamo nel mestiere, ci mettiamo a fare la roba complicata. Abbiamo idea di come per far convertire una pagina per portare le persone a pagare. Abbiamo un minimo di idea. Prima, non ti serve fare le cose complesse. Devi aver capito com'è la struttura psicologica per far convertire. Poiché sia Instapage, Leadpages, ClickFunnel, Elementor, WordPress, qualsiasi roba usi, va bene. Va bene. Mi interessa trasferire questa conoscenza, che è quella che ti fa fare i risultati. Però sono tutti ottimi software per rispondere a Massimo. Andiamo a vedere una mia landing recente, così almeno ve la faccio vedere. L'ho creato io, questa landing per Fabio, che è per i video gratuiti del corso Authority, del corso di Fabio. Eccoci qua. Ve li faccio vedere. Un attimo che mi carica. Eccola qua. Allora, come potete vedere, sfondo bianco, scritte nere. Ho usato solo il rosso per evidenziare il contenuto principale. Questo è un consiglio che vi posso dare a tutti. Questo è Anton, se non sbaglio, come font. E questo è, mi pare, lato, se non sbaglio. O comunque uno di questi qui che vi ho detto. Comunque ho usato un font estremamente semplice. Ora andiamo a notare questi elementi se combaciano con quello che vi ho detto. È abbastanza lunga, perché per essere una landing comunque ci sono tante informazioni. C'è chi è Fabio, ci sono delle foto. Non è lunghissima, però, insomma, non c'è solamente il bottone per mettere l'email. Insomma, ho raccontato un po' più roba. Quindi direi che questo requisito ce l'abbiamo. È chiara. Font semplice, colori semplici, come puoi vedere. Ho usato questo sfondo bianco con l'unica intermittenza, le immagini di Fabio. Ok? Quindi le foto di Fabio. Quindi fin qui direi che ci siamo. I font sono questi. Sfondo ve lo dico. E trasparenza, questo è importantissimo. Allora, la prima roba che io ho detto qua, ti dico subito cosa ti regalo. Questo è importante, perché voglio un po' stupirti e dirti, wow, no? Andiamo a vedere cos'è sta roba. Qua ho parlato del beneficio, l'abbiamo visto anche nell'ultima masterclass, cioè io vado subito nelle prime righe, la headline è decisiva. La headline è decisiva perché da qua io ti porto a leggere il resto, da qua io ti catturo e ti porto a scegliere di unirti o no. Va bene? E quindi ho cercato di dire, insomma, i benefici che avrai, cioè ti elevi dalla concorrenza, la annulli, attrai i contatti e li trasformi in clienti. Cioè, devastante. Qua ho spiegato, questo è molto importante, è decisivo in una landing page, ti ho detto cosa succede subito dopo. Quindi io sono stato trasparente. Oddio. Sono stato trasparente. Trasparenza. Chi siamo, cosa otterrai subito dopo. Vedi? Accedi gratis alle tre masterclass con Fabio e scopri il sistema authority per posizionare il tuo business, attrarre clienti e chiudere vendite in modo scientifico ad ogni giro d'orologio. Sono stato trasparente anche perché ti ho ripetuto. Questa qui è una cosa molto importante. Sotto il bottone, scriveteli cosa hanno. Scriveteglielo. La gente lo deve vedere scritto. Scritto. La gente compra e fa azione quando vede la roba scritta. Altra cosa importante. Quando usate il bottone due volte, quindi qua ho messo accedi ora, vedi? E sotto l'ho riusato. Vedete che ho fatto la stessa roba? Cioè ho messo accedi ora, tre masterclass gratis e qua sotto accedi ora, tre masterclass con Fabio Gallerani. Cioè ho ripetuto le stesse frasi, no? Stessa roba. Non ho cambiato il bottone. A volte vedo due bottoni diversi. Capito? Non fatelo. E un'altra cosa, se noti, quando uno clicca, lì si apre il pop-up e qua di nuovo c'è il bottone che dice la stessa roba. Vedi, accedi ora, accedi ora, clicchi, accedi ora. Non ho cambiato niente, sono rimasto congruente. Quindi ho scelto una certa congruenza tra il rosso di qua, il rosso di qua e il rosso del bottone finale. Per seguire la stessa linea. È anche una cosa secondo me psicologica. Cioè se una persona vede dei cambiamenti, guarda che la gente online, gli stanno sulle balle i cambiamenti. I cambiamenti rovinano i business. Quando c'è il cambiamento la gente ha paura, no? Quindi ho scelto una linea grafica, la rispetto. E probabilmente io rispetterei questa linea grafica già dall'annuncio. Cioè se io dovessi promuovere questa roba per Fabio, guarda perché ho scelto questo. Rosso, camicia sua rossa, bottone rosso, divisore rosso, logo del suo prodotto rosso, ok? Ho scelto questa linea grafica. Se io dovessi lanciare un annuncio per Fabio oggi, non gli direi mettiti la camicia bianca, la camicia blu. Gli direi mettiti la camicia rossa. Perché così io seguo tutta la linea dall'annuncio. Non gli direi mettiti il giallo. Perché se la persona vede il giallo nel suo annuncio e vede poi una landing page che è totalmente rossa, bianca e non c'è più il giallo. Però paradossalmente, ti ripeto, non ho gli elementi per provartelo in questo momento, ma dei test che ho fatto tutta la mia vita, ti dico che frega. Le persone devono vedere una certa congruenza anche a livello grafico. Quindi questo spero che ti sia utile da capire. Poi, altri elementi importanti. Qua sotto io ti ho descritto quello che avrai. Cioè, ci ho sparato una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove righe di roba. Dove io ti sto spiegando cosa cavolo otterrà in queste masterclass. Te le ho risintetizzate con tre foto. E ti ho spiegato pure chi è Fabio. Quindi per il discorso di prima, della famosa, no, trasparenza, ti ho messo chi è Fabio, cosa otterrai subito dopo. Quindi Fabio, cioè, ti spiego bene chi cavolo è. Alla fine c'è il logo di nuovo. Poi ho messo tutti i diritti riservati, anche se non ce li hai, il copyright sulla tua roba, chi se ne frega. E poi i termini e condizioni del sito alla fine. Questo se sei un business chiaramente avviato, se hai un'azienda e tutto, è utile mettere i tuoi termini e condizioni. Insomma, è una roba che secondo me aiuta, perché in questo modo la persona vede anche più serietà. Al giorno d'oggi la persona si va a leggere la landing page. Vi garantisco che se la legge. Se la legge è anche tutta. C'è gente che si va a leggere anche i tuoi termini e condizioni, si va a leggere anche chi cavolo sei. Prima di darti l'email. Quindi secondo me, per chi ha un'azienda, ripeto, e ha un business già strutturato e tutto, sono elementi utili. Cioè, dai effettivamente valore, cioè dai credibilità. Fai vedere che il tuo business è stabile, che è stabilito, diciamo. Che sei un'entità, che sei un'azienda, che hai una sede, che hai un sito web, che stai dicendo che cavolo sei. Immaginati invece una landing page dove c'è un bottone, dammi l'email ed è tutto bianco sotto, non c'è più niente. La persona dice, aspetta, non è che è una truffa, mi sta promettendo un codice sconto, ma sarà vero. Mi sta promettendo un ebook gratis, ma chissà poi cosa fa con l'email, magari la vende a qualcuno. Quindi, questi sono elementi che secondo me fanno la differenza. Ragazzi, io non so chi è che ti fa una masterclass del genere, dove ti mostra come lavora, come ragiona, come pensa e come struttura il proprio business, ragazzi. Penso che sia veramente tanta tanta roba. Datemi dei cuori, 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 cuori. Cosa ne pensate delle masterclass? Obiettivamente ogni masterclass va sotto le aspettative, raggiunge le aspettative o va sopra le aspettative? Cosa ne dite? Questa è pratica, questo è dirti come si fanno le cose, a livello scientifico, per non lasciare niente in mano al caso. Perché ci sono anche quelli che ti dicono, ah, testa tutto, testa, testa. No, io ti dico più o meno, poi ovvio che devi testare, però se già comunque hai una base, se già sai che quelli sono i font che funzionano, che questa è la struttura che funziona, che questi sono i colori che funzionano, è già una bella base. Poi non posso essere quello che ti dice, ok, fai così, 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 fai un milione garantito. Non lo posso sapere se farei un milione o no, però ti posso garantire che i progressi li vedi. Se ascolti quello che ti dico, i progressi li vedi. Così come tantissimi studenti che lavorano con me da anni, ormai c'è gente che ha comprato il macchinone, c'è gente che ha comprato la villa, c'è gente che ha clonato il mio corso, l'ha fatto uguale, ha fatto i soldi pure lui, pure copiando. Ok, quindi evidentemente sta roba funziona, no? Sempre sopra le aspettative, grandi. Matteo secondo me è ragionissimo, la congruenza è fondamentale, ogni masterclass va sopra, 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 dai sono contento. Condividete, 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 condividete. Perché su ACD ora hai usato il colore rosso? Allora, bravissimo per la domanda, salvo. Il rosso obiettivamente non è un colore consigliato, tuttavia, avendo scelto questa linea per il prodotto di Fabio, che il logo c'ha del rosso, Fabio gli piace il rosso, abbiamo detto proviamo ad andare contro le regole del marketing e sta funzionando alla grande. Questa pagina converte al 60%, quindi è stata una scelta puramente per il piacere di Fabio di avere il suo colore preferito nella landing, tutto qua. E poi perché obiettivamente con lui con la camicia rossa, logo rosso, metterci il bottone verde, non mi sarebbe piaciuto. Sarei andato in realtà in dissonanza, quindi ho scelto il rosso. Come si mette la casellina per spuntare la privacy? Quando tu crei una landing page, tra le varie opzioni c'è quella per mettere il nome, quella per mettere l'email e c'è anche la casellina. Da lì la aggiungi, dipende dal software che usi, però su Elementor è così. Io ho usato Elementor per fare questa pagina, non ho nemmeno usato ClickFunnel, Elementor, facilissimo e via. Sono lezioni da far pagare perché valore davvero tanto, estremo valore. Spiegazione eccezionale e aiuto vero, grazie, grazie di cuore ragazzi. Sono contento che vi piacciono le masterclass perché secondo me è tanta roba e per chi è nuovo le facciamo due volte a settimana. Solitamente la domenica e il mercoledì, sono i giorni masterclass, sempre alle 19, le 19 sono il mio orario. Poi ogni tanto facciamo gli special, seguite la mia pagina, seguite la mia pagina Instagram, anche il mio canale Instagram, su Instagram sono Matteo Pitaluga Official. Seguitele perché ci sono nuovi contenuti ogni giorno. Vediamo se c'è qualche domanda sulle vostre landing page. Scrivetemi le vostre domande. Infatti Alessia mi conferma che anche lei con la landing page lunga ha avuto più risultati. Vediamo se c'è qualche domanda su questo concetto qui di landing. E poi un'altra cosa importante, sempre per la congruenza. Ragazzi, senza dovervelo dire. Poi quello che gli dovete dare è quello promesso. Se no ho fatto una figuraccia. E poi oltretutto rischiate poi che vi blocchino, vi segnalino gli annunci. Quindi se promettete i tre video gratuiti ci devono essere. Se promettete l'ebook glielo dovete mandare. Poi faremo altre masterclass su cosa succede, su come si tratta una lista, su come si trattano questi cristiani dopo che ti hanno dato l'email. Una cosa interessante ragazzi, importante. Questa qui è una last call. C'è il corso universitario in marketing digitale. Insieme alla Marconi International University. Il link è qui in descrizione. Quindi se sei su YouTube il link è qui sotto. Se sei su Facebook il link è sopra questo post. E c'è il corso universitario in marketing digitale. È un corso di alta specializzazione. Lo possono fare tutti. È aperto a tutti. Anche chi non fa l'università. Anche chi ha la terza media. È un corso che ti dà un certificato internazionale. E ti dà la qualifica ufficiale di certificata, diciamo, di digital marketer. È il corso fatto insieme alla Marconi International University. Ve lo faccio vedere. Le iscrizioni sono aperte e mancano pochissimi posti. Quindi per chi è interessato a imparare tutto questo, l'obiettivo di questo corso è formare manager del digitale. Cioè persone che lavorano su questi aspetti. Che sanno come ottimizzare un sito, come modificare una landing, come creare un funnel di marketing. E farsi pagare chiaramente per questo. Questo è il nostro corso universitario. Io sarò chiaramente uno dei principali docenti insieme a Fabio Gallerani. Il corso inizia a giugno e saranno quattro mesi. È online completamente ed è in lingua italiana. Il link è qui in descrizione. Ragazzi, iscrivetevi a questo corso perché veramente è devastante. Abbiamo rivoluzionato completamente il mondo universitario con questo corso. Del quale sono veramente, veramente orgoglioso. Sono quattro mesi che puoi seguire online, te lo guardi dal telefono, dal pc. E l'obiettivo è formare dei manager del digitale. Cioè cosa vai a fare dopo? Puoi andare a sistemare il funnel di una persona, il sito. Andare a farti pagare per gestire i social network di qualcuno. O semplicemente fare queste cose sulla tua azienda. Tanti di voi so che fanno network marketing, ragazzi. Io c'ho una persona che lavora con me, che ha fatto il corso universitario, che si fa pagare per andare dall'azienda di network a sistemargli il sito. A dirgli, guarda che sto sito fa schifo, te lo rifaccio io, te lo sistemo. O ti dico cosa fare. Puoi essere pagato da manager, social media manager, gestendo magari i canali social di qualcuno, con tecniche e strategie concrete che portano risultati. Puoi andare a ottimizzare i siti della gente. Pensate che di recente, qualche giorno fa, una persona ha pagato 5.000 euro per una nostra consulenza. Per una consulenza. 5.000 euro, voglio dire, per andare ad analizzare il loro sito e andare a dirgli cosa modificare e cosa cambiare. Quindi vi dico, è tanta roba, ragazzi. Ovvio, magari io ho un po' più esperienza, posso chiedere 5.000 euro per fare una consulenza. Nel caso in cui magari tu stai partendo, le puoi chiedere 1.000, 1.500. Però cos'è per una persona che gli strutturi una roba del genere? Gli cambia il business. Cioè, gli cambi il business completamente. Gli dici, oh, sto sito fa schifo. Andiamo a cambiarlo, facciamo questo, questo, questo e questo. Non devi nemmeno saperlo fare tu. Questa persona prende un webmaster o c'è anche il nostro team di programmatori, se serve. Quindi ti puoi appoggiare a noi per fare qualsiasi cosa. E ti fai pagare per sistemare i funnel della gente. Abbiamo aggiunto nel corso universitario anche un modulo, che secondo me è geniale, che è un modulo, vediamo se c'è nel programma, ah no, è spiegato qui, se lo scarichi lo vai a vedere. Qua puoi scaricare il programma. C'è un modulo che è interamente dedicato a come farsi pagare. Cioè, io non ho mai visto un'università che ti insegna come monetizzare le capacità digitali. Questo è uno sforzo congiunto che abbiamo fatto insieme alla Marconi International University, perché abbiamo detto che gli studenti studiano, ma poi come monetizzano queste capacità digitali? Andiamo a fare qualcosa che non è mai stato fatto prima. Facciamo un modulo del corso dedicato a come farsi assumere, come farsi pagare per fare delle consulenze, come entrare in partnership con qualcuno e ricevere delle percentuali dal loro business per farli da social media manager, da webmaster. Ragazzi, è tanta roba. Voi non avete idea della quantità di business, di start-up, che hanno bisogno di manager per gestirgli la roba digitale? E non ce n'è, non ce n'è ragazzi. Noi siamo inondati di richieste che nemmeno possiamo starci dietro. Perché c'è pieno di aziende che cercano agenzie? Ma un'agenzia, ragazzi, è carissima e non fa un cacchio. Ve lo dico io, le agenzie non fanno un cacchio. Non sanno queste robe, non le sanno fare, non hanno una formazione di questo tipo. Quindi chiedono magari 1.500 per fare tre cose che obiettivamente una persona può fare da sola. Allora tu ti puoi far pagare da consulente per insegnarle, gliele puoi fare tu personalmente se vuoi, e gli puoi andare a sistemare un funnel di vendita, un sito, una landing page, a dei business già avviati, li puoi fare diciamo da trainer, e farti pagare per questo, farti pagare le tue competenze digitali. Perché li fai tre giustamente a un sito di una persona, e questa persona qua magari fa un milione. Quindi tanta roba, a parte del corso, sarà proprio spiegare come andare a monetizzare queste capacità digitali. Per il network faccio il corso universitale, il prossimo mentor program. Allora grazia, io ti consiglierei, se vuoi farti pagare come consulente, quindi se tu vedi nel tuo business, abbiamo vari networker che l'hanno fatto per poi andare a fare consulenza, per andare a sistemare i funnel degli altri, per gestire i business di altri. Quindi se tu pensi che nel tuo network queste capacità di gestione dei social, dei siti, delle landing page, possano apportare nuovi guadagni, assolutamente sì. Sì, quindi... Ok. Ne ho a vedere qualche domanda? Ti sto guardando dall'aereo, ma essendo volo privato per ora, adesso decollo, quindi non essendo volo privato, grandissimo. Obiettivo jet privato, grande joking. Una landing page ideale per un networker, come dovrebbe essere, improntata su di te, Giorgio. Adesso al momento non ne ho qua sul mio pc da networker, però ti posso spiegare come farla. In testazione, dove parli però dei benefici che la persona avrà, quindi come costruire il tuo business da casa, come monetizzare magari mentre viaggi per il mondo, dipende chiaramente dal tuo business. Però dentro l'ending page, ci devi essere tu con la tua faccia che spieghi cosa farai per loro. Non voglio vedere per i networker quelle landing page dove spieghi l'azienda. Non devi spiegare l'azienda, la gente compra a te nel network, non l'azienda. Quindi la landing page ci devi essere tu, che offri il tuo sistema di formazione per andare a imparare a fare network. Quello lì è per me la landing page perfetta. Cioè, ciao sono Matteo Petaluga, sono un imprenditore professionista, sono un networker. Quello che ti voglio insegnare è il mio metodo per andare a costruire un'attività basata da casa. Ho scritto un breve ebook che ti spiega all'azienda che io ho scelto, come costruire un business con quell'azienda e come portarlo a fare 1000€ al mese. Questo deve essere il tuo primo obiettivo. Scarica il report gratuito e vallo a vedere. Immagini che io faccio Herbalife. Nessuno lo promuove così. Io scriverei un piccolo ebook, un piccolo report su Herbalife con le strategie migliori, come iniziare e tutto e andrei a offrire quello nella mia landing page, con la mia faccia. Ti vado a offrire il mio report, ti vado a offrire il mio lavoro. Io ragazzo ho spaccato nel network, quando facevo network, perché offrivo sempre un qualcosa di totalmente diverso. Tutti parlavano del business e io invece ti spiegavo come fare il business. Quindi la quantità di informazioni che io davo prima di chiederti i soldi era così grande che le persone venivano tutte da me. Quindi questo è un po' il funnel da mettere su per chi fa network, ok? Quindi andrei a offrire questo tipo di contenuto gratuito. Cioè ci sono tutte che ti dicono Entra in Herbalife, entra in Avon, entra in Forever Living. Ma quanti ti spiegano effettivamente cosa cavolo devi fare una volta che sei dentro? Ad esempio il mio amico Joe ha lanciato un suo funnel dove ti dà un webinar gratuito, dove ti insegna a fare network marketing. E poi è ovvio che uno che ti insegna entri nella sua azienda, hai capito? Quindi o un report o un webinar o un video gratuito o un contenuto di valore, quello devi andarlo a offrire. Cioè nella landing non gli devi dire Entra con me perché ti faccio fare i soldi. Entra con me perché io ti mostro esattamente quello che devi fare. E uno dice wow, almeno l'email gliela metto. Ecco Joe ha condiviso anche il link, grande. Io credo che proverò a chiedergli di comprare solo questo modulo al quarto mese come supplemento. Per i video che pubblichi nelle ads di Facebook che plugin usi per mettere i test nelle bande? Grande Marco, io uso un'app che si chiama InShot. InShot, ve la scrivo? Ho già spiegato in qualche video. Lo chiedete in tanti, evidentemente è una roba che... Vi piacciono i miei video? Quelli che metto con le bande, vi piacciono? Datemi dei feedback ragazzi, ecco, importante. Voglio uscire con un sacco di contenuti nuovi, ma proprio tanti. C'ho una bomba che pubblicherò a breve, ma proprio una bomba perché c'ho una persona incredibile che molto probabilmente lavorerà con noi. Quindi non vedo l'ora di presentarvi questa persona che magari anche all'ascolto, se ci sei, tu sai chi sei, ci sentiamo poi in privato. Però abbiamo veramente un grande professionista da portare a bordo e voglio creare con questa persona un sacco di contenuti. Quindi ditemi che tipo di contenuti volete. Se volete le masterclass, penso di sì. Io pensavo di fare due giorni a settimana le masterclass e altri giorni consigli con piccole tips, no? Sulla vita, sul business, sui soldi, su quello che può servire. Vi piacciono i miei video, quelli con le bande, sopra e sotto, come diceva Marco? Se quei video vi piacciono brevi, no? Dove do un contenuto preciso, un consiglio, ditemelo e ne creerò tanti altri, ok? Il programma si chiama InShot. Scaricatevi questa app, ragazzi, per me è un must. InShot, ok? Adesso lo scrivo qua. Questa app è disumana, secondo me. Adesso vi condivido. InShot, vedete qua? Dov'è? Qua. InShot. Ok? InShot. È un'app che ti permette di editare i video, tagliarli, però è editing semplice, eh? Non ci fate i video della vita con quella roba lì, ve lo dico. Perché poi da telefono, fai tutto da telefono, quindi non è che ci fai i video proprio quelli ultra. Però, per metterci le bande è valida, anche per mettere il logo. È lo schema che sto cercando di seguire io. Per un sito vetrina dove elenchi i tuoi servizi, cosa consigli di usare? WordPress più Elementor, va bene? Sì, sì. Sito vetrina, WordPress più Elementor, salvo, assolutamente. Dai, datemi un po' dei feedback sui contenuti. Privacy GDPR, quello lo metto dentro il corso All-In. Ok? Privacy GDPR, voglio fare una roba dentro il corso All-In. È insegnato anche nel corso universitario, ragazzi, quindi andatevi a studiare il corso universitario, unitevi, perché è tanta roba. Chi fa il manager deve sapere queste cose, però volevo inserire anche un modulino, un piccolo bonus nel corso All-In, lo voglio insegnare. Dai, datemi dei feedback sui video che vorreste vedere, su qualcosa così, perché io in base a quello che mi dite creo i contenuti. Un corso su OBS. Un corso su OBS, vuoi? Non vedo un grande mercato, per fare un corso su OBS, onestamente. Però potrei fare qualche cosa così. Il copy faremo sicuramente, delle masterclass, delle cose sul copy sicuramente. Video contenuti tips. Ottimo. Allora farò dei contenuti. Io ragazzi vi dico un po' la mia visione qual è. Allora, secondo me il successo è una combo di più cose. Una cosa è il mindset, che secondo me è fondamentale. Cioè, devi avere una mente orientata comunque in qualche modo al successo. Al non mollare mai, al fare le cose, ad essere determinato, costante e crederci sempre. E la seconda sono le tecniche e le strategie. Quindi, è inutile che io vi dia mille strategie se poi non avete il mindset. Se io anche ti insegno a fare i soldi, ma tu li sputtani tutti, sei il punto da capo. Obiettivamente. Quindi per me il successo è un mix di entrambe le cose. Cioè, avere la costanza, avere la determinazione, avere l'intelligenza finanziaria. Avere anche la capacità mentale di reggere le fatiche, di reggere i momenti down, perché quelli arrivano. Altrimenti ti posso dare tutte le tecniche e le strategie che ti fanno fare i soldi, ma appena hai un momento down, perché ti arriva. Ti arriva il giorno in cui non vendi niente, ti arriva il giorno in cui perdi soldi, ti arriva il giorno in cui lanci un prodotto e non si vende. Ti succede, prima o poi ti succede. A quel punto se non hai tutto il resto di capacità mentali, sei fregato. Non ti tiri mai più su. Quindi io cerco tramite i miei contenuti di avere due masterclass settimanali dove ti do contenuti, ti do consigli di valore. Roba pratica che puoi implementare. Quindi ti formo da quel punto di vista. Ma voglio anche allo stesso tempo formarti un po' a livello mentale. Perché altrimenti ne ho visti troppi, ragazzi, di persone che fanno il cash, cazzo, e poi lo perdono, oppure alla prima difficoltà vanno giù e non vanno da nessuna parte. Quindi purtroppo è un po' quello che ho visto io, ok? Abbiamo la stessa mentalità. Sono uscite notizie di indagini su integratori, sembra che provichino epatite, ma non penso, non lo so. Non voglio far male a nessuno, ma quella che ha già venduta, secondo te, è la responsabilità del network di affiliazione di chi mette i soldi per le ads. Ma non so di cosa stai parlando in realtà. Ma Stefano, non vedo nessun tipo di problema, ragazzi. Chi? Allora, Stefano dice, ci sono alcuni integratori che sono usciti che fanno male, quindi bisognerebbe non promuoverli. Ragazzi, obiettivamente, anche la carne fa male. Cioè, ok? Quanti di voi mangiate carne? Un sacco. Allora, anche mangiare la cioccolata fa male. Quanta ne mangi? Anche gli integratori fanno male, alcuni. Ma non penso che muoia qualcuno, ok? Tutti gli integratori che tu vedi in giro, obiettivamente, se sono in commercio è perché li hanno testati. Quindi, poi alcune aziende magari sono state bloccate, alcune aziende di network hanno avuto dei problemi, eccetera. Chi le promuove, ragazzi, smetta. Se vedete che ci sono, lì sta ognuno, se vedete che ci sono effettivamente dei problemi nel prodotto o nel business, smettete di promuoverlo. Spegnete le ads. In quel caso, per la domanda di Stefano, purtroppo se ci sono dei problemi, la responsabilità è dell'azienda, non dell'affiliato che l'ha promosse. Responsabilità è dell'azienda, nei casini ci finisce l'azienda, ok? Purtroppo sono le aziende che pagano, chiaramente, cioè sono loro che hanno messo sul mercato il business, no? Hanno messo sul mercato i prodotti. Ragazzi, mi raccomando, io insegno tecniche di marketing potenti, ma è come una Ferrari. Cioè, tu la Ferrari la puoi usare per guidare bene, divertirti e stare bene, e quindi puoi usare il marketing per divertirti e stare bene, o puoi usare il marketing per vendere anche, ragazzi, cioè con le informazioni che noi insegniamo, se uno vuole fare una truffa online, la fa, ragazzi. Cioè, obiettivamente, vuoi vendere le suonerie scaricabili che ti agganciano un abbonamento e gli succhi i soldi alla gente? Lo puoi fare, ma sei una bella persona? Non penso, ok? Usate queste strategie di marketing per promuovere prodotti in cui credete, sempre, anche perché se no a lungo termine finisce male, ve lo dico. Se non promuovi roba etica che ti piace, che ti fa star bene, a lungo termine finisci male. Ormai si riaggancia un po' il discorso di prima, ormai le persone sono sgamate, cioè devi essere chiaro, pulito, devi essere trasparente e le persone ti pagano. Ti pagano, ok? Ti pagano alla grande. Quindi, ragazzi, io mi auguro di vedervi all'interno del mio corso universitario, voglio essere il tuo prof. Tutte le informazioni sono qui sopra se sei su Facebook o qui sotto se sei su YouTube. Il link è university.besupergenius.com Vi lascio anche la mia email qua. Non rispondo sempre io, ragazzi, all'email, però me le passano, quindi me le leggo volentieri. La mia email è info-matteopittaluga.com Ve la scrivo. Se avete bisogno di consigli sui miei corsi o avete domande, info-matteopittaluga.com Ve la lascio qua. Info-matteopittaluga.com Intanto, se vi va, segnatevi la data della prossima masterclass. Qua c'è la mia email, ok? Info-matteopittaluga.com Ho scritto bene? Matteopittaluga.com Pittaluga, non pittalunga, non sono pittalunga, io sono Matteo Pittaluga, ok? Info-matteopittaluga.com Mi scrivi un'email se hai bisogno di informazioni sui miei corsi, sui miei prodotti, su quello che facciamo qui in Marketing Genius e sarà un piacere. Se sei su Instagram e mi stai guardando, fai una story durante la masterclass e taggami che la ricondivido, ok? Taggami, taggami su Instagram, la ricondivido con piacere. Voglio vedere chi c'è su Instagram mentre si guarda le masterclass. Prossima masterclass, dicevo, segnati la data domenica ore 19. Dal campionato di calcio ho già deciso, a meno che non ti fil genua, ok? E sei lì a tribolare, a soffrire. Però il campionato di calcio è già deciso, non c'è un cavolo da fare. Domenica alle 19 vieni alla masterclass insieme a me. Comunicherò a breve tutti i dettagli sul prossimo programma della prossima masterclass. Seguimi su Facebook, Instagram e YouTube per non perderti i contenuti. Io sono Matteo Petaluga, questa è la mia masterclass. Un abbraccio grande, buona serata e a presto. Ciao!